ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco dermolife a cosa serve dermolife a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per medicazione altri cerotto per sutura vdh 90 01 02 è commercializzato in italia dall'azienda freie farmaceutici srl informazioni commerciali titolare freie farmaceutici srl concessionario freie farmaceutici srl categoria di appartenenza dispositivi per medicazione altri cerotto per sutura vdh 90 01 02 forma farmaceutica crema confezioni dermolife crema lenitiva ultraliquida 1 kg indicazioni indicato nel trattamento di dermatiti atopiche e in tutti i casi nei quali sia indicata una iperidratazione della pelle modalità d'uso dermolife crema lenitiva ultraliquida destinata ad un esclusivo uso esterno dermatiti di diversa origine applicare sulla zona interessata massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento continuare ad applicare come descritto fino a remissione dei sintomi o secondo parere medico irritazioni determinate da trattamenti farmacologici o terapeutici irritazioni e dei temi applicare secondo necessità massaggiando delicatamente continuare ad applicare come descritto fino a remissione dei sintomi o secondo parere medico interazioni dermolife crema lenitiva ultraliquida non interagisce con trattamenti farmacologici comunemente adottati nelle terapie per dermatiti descrizione e caratteristiche dermolife crema lenitiva ultraliquida a un dispositivo medico di classe i e indicato nel trattamento di dermatiti atopiche e in tutti i casi nei quali sia indicata una iperidratazione della pelle sinergico al trattamento farmacologico a utile negli stati infiammatori cutanei determinati da trattamenti farmacologici terapeutici o da agenti esterni aggressivi grazie all'azione combinata di ingredienti lenitivi emollienti ed idratanti favorisce il rapido riequilibrio e l'integrità della barriera epidermica riducendo arrossamenti bruciore e prurito l'azione antiossidante di dermolife crema lenitiva ultraliquida protegge la cute dai danni cellulari causati dai radicali liberi responsabili degli stati infiammatori avvertenze conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente non esporre al sole o al gelo uso esterno non utilizzare in caso di allergie note ai singoli componenti non usare su ferite aperte evitare il contatto con gli occhi in caso di contatto risciacquare con abbondante acqua fresca se dovessero verificarsi intolleranze o altri effetti avversi sospendere l'uso ed eventualmente consultare il medico tenere fuori dalla portata dei bambini componenti e ingredienti acqua cannabis sativa sed oil omega 3 omega 6 argani espinosa oil etil macadamiate tocco feri l'acetate potassi un palmito il idrolizzate vet protein gliceril stiarate cetearil alcol tocco ferol acrilates barra c10 30 alkyl acrilate cross polymer idrolizzate glicosaminoglycans ialluronic acid glicerine fantenol pulluran urea iastamino acids trealose inositol taurine betaine maltoligosil glucoside idrogena ted stark alcol onopordum acantium extract bay protein lactis proteinum potassium cetil fosfate cetearil alcol cetearil glucoside idroxietil acrilate barra sodium acryloid metiltaurate copolymer end squalane end polisorbate 60 fenetil alcol caprilil glicol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato